All'ospedale di Biella torna la possibilità di far visita quotidianamente ai propri parenti o amici ricoverati nei reparti no covid. Giovedì infatti è entrata in vigore la legge sull'accesso dei visitatori, secondo la quale può accedere a far visita ai digenti chi ha fatto le tre dosi di vaccino, mentre per chi non ha fatto la dose booster o chi è guarito dal covid prima di accedere deve esibire l'esito negativo di un tampone. Finora all'ospedale Biella, a differenza di quanto avvenuto in altre strutture che avevano vietato le visite ai digenti, in realtà si poteva accedere ogni tre giorni prendendo accordi con il reparto interessato e naturalmente nel rispetto di tutte le norme di distanziamento e prevenzione dei contagi da covid. Oggi è possibile accedere tutti i giorni, sempre concordando l'orario con il personale sanitario.